Grazie Presidente. La mia sarà una voce fuori dal coro. Credo che attorno alla vicenda che ha coinvolto due fucilieri della Marina Militare, la Torre Girone, si sia costruita una retorica patriotica che non solo non è nelle mie corde, ma credo sia anche poco utile alla soluzione del caso. La questione è naturalmente molto complessa e si tratta di una triste vicenda processuale e non certo di una questione di diritti umani. Ha ragione, mi sembra quasi incredibile dirlo, l'onorevole Borghezio. È un'enorme questione nazionale questa. Non riguarda certo l'Unione Europea, non riguarda certo questo Parlamento e non riguarda certo il lavoro che è durissimo che sta facendo l'alto rappresentante e che ringrazio anch'io per la giornata che ha speso insieme a noi, per le cose che sta facendo, per tutte le crisi e i dossier che sta affrontando. Questa è una vicenda che deve rimanere e deve risolversi solo a livello giurisdizionale e processuale. Grazie. Onorevole Spinelli, per un minuto. Grazie, Presidente. Sono molto preoccupata anch'io per il diritto violato a un giusto processo e per l'incertezza in cui vivono i Marocci.